buonasera a tutti allora questa sera un video molto interessante ovvero come riuscire a trasformare un amplificatore vintage e aggiunge la funzionalità bluetooth per poter sentire la musica direttamente dal vostro cellulare allora questo come vedete è un amplificatore della gradiente modello super stereo amplifier di classe a apparentemente il modello 166 noi cosa faremo utilizzando l'entrata aux connetteremo questo piccolo modulino bluetooth come funziona questo modulo bluetooth qui vedete l'antenna qui vedete un ingresso per alimentarlo con un caricatore usb o tramite una batteria qui vedete il jack audio e anche i cavi ora cosa dovremmo fare noi dovremmo aprire il nostro amplificatore cercare una sorgente di tensione a 5 volt e connettere dei cavi audio direttamente all'entrata aux poi cosa da fare ma niente perché sarà finito quando l'amplificatore sarà acceso il modulino sarà alimentato e noi riusciremo con il nostro telefono a connessi al bluetooth e trasmettere la musica direttamente sull'amplificatore ci basterà selezionare aux ma passiamo all'apertura ed ecco qui allora uso questo bel cacciavite automatico della bosch per svitare le quattro viti che troviamo sul laterale e apriamo il nostro amplificatore lo trovo abbastanza ben messo sembra abbastanza si sembra abbastanza pulito sembra abbastanza pulito questo qui l'ho trovato è giusto per dire ma cosa fare beh prima cosa fare è prendere un pennello e dare una bella spolverata un po dappertutto l'ho già provato e non c'è nessun problema funziona l'amplificatore funziona correttamente le uscite funzionano tutte quattro cioè tutte quattro canale destra e sinistro per le casse a e b questo qui sicuramente questo qui è la regolazione del bias dei due canali qui non va toccata ok vediamo un po in più in dettaglio l'amplificatore qui potete notare questi rimandi che collegano poi agli interruttori che sono posti sul pcb in basso prendendo il bottone su tramite questo leveraggio viene premuto il l'interruttore che si trova in basso vediamo anche qui che troviamo invece dei lunghi rimandi che arrivano fino indietro nella parte posteriore il trasformatore condensatore di livellamento di varie capacità che sembra in buono stato il dissipatore di transistor qui niente di che questo era un modello come potete vedere a doppia alimentazione vedete che 110 220 anche due prese questa un switch vuol dire che sempre connessa anche quando l'amplificatore spento invece questo qui si attiva solo quando l'amplificatore spento era per comandare degli apparecchi in cascata niente adesso qui noi dobbiamo semplicemente trovare una tensione di più o meno 5 volt da qualche parte soprattutto c'è una tensione continua di 5 volt e possibilmente appunto già livellata per cui dovremmo cercare dopo la parte di ponte raddrizzatore eccolo qui guardate questo non è che mi piace più di tanto è fatto con 4 diodi discreti niente di non dissipati per cui probabilmente questo amplificatore non deve erogare comunque moltissima potenza allora come procediamo per trovare la nostra alimentazione allora prima di tutto mi sono reso conto che ci sono due punti raddrizzatore ce n'è uno qui che è fissato sullo chassis e uno qui invece con i quattro che abbiamo già visto prima di conseguenza mi hanno detto ci sono due due sorgenti di tensione sarebbe potuto essere per la 110 220 ma non è così due circuiti di raddrizzamento differenti perché appunto da questo trasformatore escono due tensioni differenti sarebbe a dire una tensione per alimentare lo stato di lo stadio di amplificazione e un'altra di servizio che alimento ho visto il v meter qui davanti allora 13 volte qualcosa 13 e 4 più o meno sono troppi a me non vanno bene perché il mio il mio amplificato nostro amplificatorino lui necessita di 5 volt allora intanto un'altra cosa che dobbiamo vedere che il circuitino pensavo di metterlo qui metterlo sopra questo condensatore con un po di colla a caldo perché perché è sotto il filo del del coperchio superiore ma abbastanza vicino al coperchio superiore in modo che attraverso le fessure che ci sono sul coperchio superiore il segnale possa passare e riceve ricevuto l'antenna inoltre in questo punto mi trovo vicino a questa alimentazione e vicino anche a dove dovrò iniettare il segnale dunque qual è la soluzione che voglio applicare per poter abbassare la tensione ma semplicemente prenderò uno dei miei regolatori di tensione che ho qui un regolatore di tensione a 5 volte per cui prenderemo la 12 volte in ingresso e l'abbasseremo direttamente linearmente a 5 volte uso un regolatore lineare perché perché stiamo parlando di audio dunque abbiamo bisogno di una pulizia perfetta dall'alimentazione e soprattutto perché perché anche se la creatura di tensione abbastanza importante ma il consumo di questo regolatore talmente basso che prende il nostro regolatore lineare non consumerà non dissiperà praticamente niente perché non ci sarà neanche bisogno di di dissiparlo e potremmo montarlo direttamente qui su questo pcb volante ed eccolo qui il nostro l 7805 come funziona questo regolatore lineare molto semplice qui andrò a mettere la tensione d'ingresso dunque il più 13 volt qui metteremo la massa e qui avremo in uscita i nostri cinque volte i cinque volte intente la massa verrà collegata al negativo per cui prendiamo il nostro piccolo ricevitore avremo qui il 13 volt qui avremo il negativo che sarà connesso anche qui e qui avremo i più cinque volte che verranno messi qui qui c'è scritto batteria ma in verità questo connessore qui è in parallelo a questo qui perché questo circuito qui permette di essere alimentato o attenzione che vanno da 3 fino a cinque volte e mezzo circa per cui la tensione cinque volte è ottima allora andiamo a fare le nostre saldature perché così perfetto ora passiamo all'installazione del nostro regolatore di tensione tensione allora il regolatore di tensione come vedete ha questa parte metallica questa qui dietro ora questa parte metallica è connessa al pin centrale che sarebbe la massa di conseguenza noi cosa possiamo fare possiamo installare questo direttamente così perché perché tanto questo diciamo che è il negativo e lo mettiamo nel buco del negativo questo è il positivo nel buco del positivo e questa parte qui metallica toccherà questo connettore usb ma non c'è problema perché anche la parte esterna del connettore usb è a massa questo possiamo verificare col nostro tester se io mi metto qui sul connettore e qui ho contatto e possiamo verificare anche che se tocco la parte centrale qui e il negativo abbiamo la la massa di conseguenza posso mettere tranquillamente questo in questa posizione e saldarlo ed ecco fatto ora procediamo all'installazione di questo piccolo modulo nel circuito e al raccordamento raccordo delle varie connessioni elettriche e audio dimentichiamo altra cosa che dobbiamo fare è saldare i nostri cavi che porteranno l'alimentazione al nostro modulo al nostro regolatore di tensione per cui semplicemente mettiamo un po di stagno sul pin positivo e andiamo ad assaldarci ed ecco fatto ora procediamo all'installazione guardando meglio ho trovato che anche il punto qui centrale nero anche quello è connesso al al 13 volt di conseguenza basta che saldo questo cavo qui e riusciremo a fare i nostri 13 volt e adesso la prova del 9 in teoria accendendo anche il modulino dovrebbe accendersi proviamo e voilà perfetto vedete la luce blu lampeggia per cui vuol dire che il modulo è correttamente alimentato perfetto adesso non ci resta che saldare i cavi audio all'entrata aux allora prima di cominciare a saldare individuiamo qual è la massa e quali sono invece i canali per cui ci mettiamo sulla parte esterna del connettore rca e vediamo dove suona allora questi qui due centrali e la sola massa queste sono il canale destro e uno il canale sinistro per cui possiamo procedere alla saldatura del cavo ed ecco fatto il nostro lavoro è terminato allora con un po di colla a caldo ho appena bloccato il circuito sul condensatore e poi ho rifatto anche ho accorciato il cavo di segnale che era troppo lungo e così è diventato più corto e così non va in giro e non fa da antenna ho anche arrotolato i due fili del dell'alimentazione adesso li mettiamo qui e vediamo di vedere come suona purtroppo come potete sentire c'è un disturbo c'è un disturbo probabilmente è dato da un ritorno di massa tra l'alimentazione e l'audio ora vediamo un po come si può risolvere il problema attraverso il caldo